finiamo oggi e vorrei riprendere un po' l'immagine che vi avevo proiettato se ricordate così nell'introduzione a questo breve breve corso che insomma mi auguro ci auguriamo insomma che vi abbia suscitato tante domande piuttosto che rapide risposte e soprattutto abbia ampliato il vostro sguardo insomma mi sembra che già dal titolo insomma del corso lo sguardo psicoanalitico guardare mi sembra che lo sguardo gli occhi insomma il vedere siano stati un filo conduttore che vi accompagnate quindi uno sguardo verso l'esterno la realtà ma anche verso la realtà psichica cioè l'interno dei bambini delle famiglie insomma di cui vi occupate ma anche sul vostro mondo interno quindi mi chiedo un esercizio che poi forse ognuna di voi può fare anche singolarmente che cosa vedete di più oggi delle due immagini di Hockney che ci hanno accompagnato una quella della copertina che ricorderete degli alberi del bosco e quella che vi ripropongo oggi ma per rimanere sulla centralità dello sguardo sono andata a vedere sul dizionario Treccani il significato di tre parole legate allo sguardo sono parole simili ma che hanno delle sfumature molto importanti se guardiamo la prima guardare è dirigere gli occhi fissare lo sguardo su qualche oggetto ma la parte importante mi pare quella in parentesi cioè non include necessariamente l'idea del vedere in quanto si può guardare senza vedere così come si può vedere qualcosa senza rivolgervi intenzionalmente o coscientemente lo sguardo quindi guardare vedere sono due cose molto diverse appunto vedere sempre proseguendo un po' in queste definizioni certamente è percepire stimoli esterni per mezzo della funzione visiva ma anche oltre la sensazione visiva l'intenzione la volontà di avere tale sensazione quindi io guardo in quella direzione per vedere una certa cosa ancor più se guardiamo osservare che appunto viene proprio dal latino ob più osservare nel senso disservare custodire no mi sembra parole molto importanti rispetto al tipo di sguardo lo sguardo psicoanalitico che vi abbiamo proposto in questo corso quindi è posare attentamente lo sguardo su qualcosa o su qualcuno guardare esaminare considerare con attenzione anche con l'aiuto di strumenti adatti al fine di conoscerne meglio di rendersi conto di qualcosa di rilevare i particolari e questo è centrale poi su quella che è l'osservazione ve ne parlerò più avanti quanto uno sguardo orientato al vedere questi aspetti sia fondamentale nell'osservazione ma adesso volevo proporvi un piccolo ma piccolissimo esercizio da fare qui insieme vi mostrerò un filmato molto breve che è tratto da babies immagino che molti di voi conoscano un film documentario francese del 2010 e cattura insomma i primi stadi della vita di quattro bambini provenienti da culture molto diverse io ho scelto solo un passaggio di questa è la la famiglia americana e vorrei che cercaste di guardarlo o meglio di vederlo con uno sguardo molto attento poi ci fermiamo un attimo grazie a tutti grazie a tutti eccoci allora adesso vi lascio proprio qualche minuto ma un paio veramente di orologio per fare un piccolo esercizio di vedere prendendovi proprio qualche appunto ma con delle parole chiave qualcosa che avete non solo guardato ma visto o osservato qualcosa che vi ha colpito proprio un paio di minuti poi cerchiamo di condividerlo tutte insieme qualcosa della storia dell'osservare l'infant observation è piuttosto recente nasce solo 60 anni fa mentre l'osservazione l'osservazione l'osservare ha una storia più lontana in cui la stessa infant affonda infant observation affonda le sue radici beh sono numerosi i diari o le biografie di bambini tenuti da studiosi del settecento ottocento che sono proprio dei primi esempi di indagini che sono proprio dei primi esempi di indagine osservativa legata al comportamento infantile e molto spesso al ai propri figli tra i più notti insomma c'è l'Emile di Jean-Jacques Rousseau ma anche appunto il diario di Darwin sul figlio d'Oddit e risale questo insomma il migliottocento quaranta abbiamo ancora Pestalozzi Strampel che sono tutte eh biografie eh di bambini eh ancora nel milleottocentoottantadue un fisiologo tedesco eh Preier raccolse in un libro intitolato proprio la mente del bambino la descrizione dettagliata dei primi tre anni di vita del proprio figlio beh in tempi più recenti se ci sono delle insegnanti insomma una delle varie pubblicazioni di Maria Montessori no dove c'è un'attenta osservazione del comportamento e dello sviluppo eh della mente del bambino tutti gli studiosi citati nell'arco di più di due secoli eh hanno mostrato proprio una forte predilizione eh per l'approccio osservativo quindi vediamo proprio gli albori dell'osservare beh uno dei maestri dell'osservazione certamente di stampo etologico è con Rand Lorenz eh nel tempo l'etologia è stata utilizzata proprio dalla ricerca sociale cioè che nasce come metodo di ricerca del comportamento degli animali ma poi è stata utilizzata proprio per l'osservazione del comportamento umano e in particolare di quello del bambino beh insomma tutti ricorderete le paperelle che poi di fatto sono delle ocche selvatiche di Lorenz eh e vi mostro qua non c'è audio eh un un video molto carino molto datato come potete vedere questo è il richiamo no che lui fa sapete gli studi sull'imprinting e qua arrivano al richiamo della mamma Lorenz mi lascio ancora un pezzettino perché appunto è molto anche divertente no? le paperelle che lo seguono che lui sia a piedi o in acqua beh le gli studi etologici di Lorenz hanno esercitato un'influenza profonda su Bowlby che è uno psicanalista di cui vi parlerò dopo che è di rilievo anche per l'osservazione andiamo avanti beh e anche la psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva ha preso proprio il suo avvio dall'osservazione del bambino e tra tutti vi ricordo Jean Piaget che è partito proprio dall'osservazioni fatte sui suoi tre figli anche se poi le conclusioni insomma a cui è arrivato Piaget sono ampiamente superate perché lui descriveva insomma il neonato come una tabula rasa incapace di comunicazione con l'altro nei primi tre mesi di vita adesso senza pensare a tutta la letteratura che conosciamo basta riandare al video che abbiamo guardato prima dove sono dei neonati questa era una neonata e già avete visto tutti come guardava, sorrideva, si agganciava allo sguardo della mamma quindi sappiamo che queste considerazioni sono ampiamente superate e anche la psicanalisi ai suoi primordi attribuisce un ruolo privilegiato all'osservazione e questo sin dalle famose osservazioni di Freud sul nipotino di un anno e mezzo alle prese con un rocchetto di legno non so se l'avete fatto con la dottoressa Agliora No No, allora poi tanto lo riprendo e poi via via comunque la psicanalisi anche negli anni quaranta, sessanta e oltre con psicanalisti di nazionalità diverse si è interrogata su come si sviluppi una personalità sana fra questi Anna Freud, Spitz, Volby appunto, Mahler e molti altri che appunto si occupavano di bambini e impostarono varie metodiche di osservazione sperimentale non parliamo ancora di infant observation in senso stretto però con camere di osservazione o situazioni di osservazione controllata spesso coadiuvati da registrazioni sonore o cinematografiche e ne vedremo qualcuna vi dicevo di Freud Freud osserve e studia un bambino che è il nipote Ernest di diciotto mesi mentre appunto gioca con un rocchetto e qua possiamo proprio leggere uno dei passaggi perché poi è molto più lungo ora senza voler abbracciare tutto il campo di questi fenomeni ho sfruttato un'occasione che mi si è offerta per chiarire il significato del primo gioco che un bambino di un anno e mezzo si era inventato da sé lui qui non dice che è il nipote si è trattato di qualcosa di più di una fuggevole osservazione poiché sono vissuto per alcune settimane sotto lo stesso tetto del bambino e dei suoi genitori ed è passato un certo tempo prima che riuscissi a scoprire il significato della misteriosa attività che egli ripeteva continuamente un giorno feci un'osservazione che confermò la mia ipotesi il bambino aveva un rocchetto di legno intorno a cui era avvolto del filo non gli venne mai in mente di tirarselo dietro per terra per esempio e di giocarci come se fosse una carrozza tenendo il filo a cui era attaccato gettava invece con grande abilità il rocchetto oltre la cortina del suo lettino in modo da farlo sparire pronunciando al tempo stesso il suo espressivo poi tirava nuovamente il rocchetto fuori dal letto e salutava la sua ricomparsa con un allegro da che vuol dire qui questo era dunque il gioco completo sparizione e riapparizione del quale era dato assistere adesso non mi soffermo troppo sulle varie interpretazioni del significato credo Freud lo interpreta come l'elaborazione della separazione dalla mamma quindi questo rocchetto che va via e che ritorna è la mamma e lui qui ha il controllo sulla separazione lui che gestisce quando il rocchetto mamma va via e quando torna però dicevo non voglio soffermarmi troppo era giusto per darvi un assaggio dei vari percorsi dell'osservare si dice che appunto questa sia la prima osservazione in campo psicoanalitico le prime ricerche condotte dagli psicoanalisti sono del dopoguerra quasi tutte in Inghilterra ad esempio Anna Freud che assieme a Dorothy Barlingham ci ha lasciato delle osservazioni molto accurate sul comportamento dei bambini che ha svolto nella Hampstead War series che era un rifugio per bambini rimasti orfani o senza casa per i bombardamenti negli anni della guerra e Anna Freud sostiene l'importanza per i bambini di essere osservati con attenzione dagli adulti e quindi compresi nel loro punto di vista già durante appunto la prima infanzia anche Melanie Klein che è tra le figure più significative insomma del ventesimo secolo nel campo dell'analisi infantile ebbe un'esperienza formativa con l'osservazione l'osservazione di vita quotidiana anche lei dei propri figli oltre naturalmente le sue preziose attente osservazioni in un setting analitico insomma dei piccoli dei suoi piccoli pazienti e come vi dicevo prima un altro psicanalista che ha dato un grande contributo alla ricerca e all'osservazione dei bambini è John Bowlby che è considerato uno tra i più grandi psicanalisti del ventesimo secolo a cui dobbiamo la teoria dell'attaccamento nel 46 Bowlby viene scelto come vice direttore della Tavistock Clinic con il compito anche di sviluppare un dipartimento infantile e pochi anni dopo riceve l'incarico proprio dall'organizzazione mondiale sanitaria di elaborare uno studio sulla salute mentale dei bambini orfani o privati delle loro famiglie d'origine siamo appunto nel dopoguerra e la teoria dell'attaccamento nasce proprio da attente ripetute osservazioni effettuate sia nei confronti di bambini ma anche di mammifia ci sono tutti gli studi insomma sulle scimmie anche questi molto famosi e di fatto Bowlby rimproverà alla psicanalisi di avere poco interesse per l'osservazione diretta dei bambini mentre lui appunto lavora molto su questo lavora anche con la Hansworth nelle popolazioni africane o ancora sui bambini istituzionalizzati ed ospedalizzati e questo proprio riflettendo, osservando che cosa produce l'allontanamento la separazione o la discontinuità dalle figure, dai caregiver insomma che siano i genitori o chi si prende cura dei bambini e lui collaborerà anche con i Robertson di cui vi mostro anche un piccolo filmato i coniugi Robertson sono James e Joyce hanno documentato tramite filmati e siamo qua negli anni 50, questo del 52 le reazioni emotive di bambini molto piccoli quando precocemente allontanati dalla madre ed è famosissimo appunto il film adesso appunto vediamo questo pezzettino che riguarda una bambina di due anni che va in ospedale è chiaro che ciò che oggi è scontato ed evidente cioè che la separazione dall'adulto di riferimento è doloroso ed intollerabile per un bambino e per un bambino che sta male ancora di più allora non era così ecco quindi vi mostro questo filmato che è molto... vedendo questa piccola chiusura sentita per la stessa quieti trattando la tettia e la bambina è facile credere che si è scontato che si è scontato non si tratta o chiede o chiede l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti quindi vedete siamo appunto in periodi molto lontani allora dello stesso anno vedete siamo sempre nel 1952 sono gli studi famosi di René Spitz ne avrete sentito parlare l'avrete studiato proprio studi sui bambini istituzionalizzati da cui elaborò poi la sua teoria sulla depressione anatolitica e dove descrive insomma in ordine proprio progressivo i comportamenti dei bambini che vengono separati traumaticamente dai genitori anche lui psicanalista un psicanalista austriaco che però poi si è trasferito negli Stati Uniti e che ha proprio valorizzato il ruolo della madre tramite l'osservazione diretta dell'appunto dell'interazione madre-bambino come vediamo in questo filmato vi faccio overt active hostility the child can feel the mother's discomfort here the ability to provide a maternal bond comes from the development of the limbic brain during latter stages of pregnancy pregnancy and the first six months scusate the cause of the technology the child can feel the mother's discomfort here the ability to provide a maternal bond comes from the development of the limbic brain during latter stages of pregnancy and the first six months ask anyone that is a professional at raising dogs cats sheep goats horses cows or any other mammal if an infant female is separated from its mother and a healthy bond is not formed with another it is unable to care for its own young this mother probably lacks this limbic development and all of the desire and books and nice behavior doesn't give this animal level ability to bond even though fed and bathed an infant needs more it needs a loving bond activity and interaction being talked to and moved around without these things it will vedete è molto penoso questo video e ce ne sono se vi capiterà insomma di altre ancora ancora più toccanti dove c'è proprio poi la depressione totale appunto anaclitica del bambino dove non si nutre non guarda la madre non guarda il mondo insomma sono bambini che si lasciavano morire ma ho voluto un po' così portarvi attraverso queste suggestioni anche multimediali alcuni sono appunto dei filmati molto rari proprio nel clima in cui l'infant observation si sviluppa siamo appunto nel dopoguerra ci sono molti orfani molti bambini ospedalizzati e in qualche modo bisogna prendersene cura c'è lo stato assistenziale welfare che si sta espandendo si sta creando appunto un servizio sanitario nazionale la Tavistock clinica è presente operativa sin dagli anni venti e se ricordatevi dicevo di Bolbi che negli anni cinquanta dall'incarico l'organizzazione mondiale sanitaria dall'incarico appunto a Bolbi di redigere un rapporto sulla salute mentale dei bambini quando lui è proprio direttore del dipartimento per bambini e genitori della Tavistock clinica quindi c'è tutto un clima un fermento insomma intorno a la sofferenza dei bambini la sofferenza psichica no? c'era l'idea che il bambino va nutrito va accudito ma va anche nutrito di relazione di mente e questo è il clima in cui Esther Bick appunto nel millenovecentosessantaquattro scrive il suo articolo note sull'osservazione del lattante nell'addestramento psicoanalitico Esther Bick era allieva di Melanie Klein analizzata dalla Klein esperta terapeuta infantile e collabora proprio con la Tavistock Clinic in particolare con Bolbi di cui vi dicevo prima che la incarica proprio della formazione degli analisti dell'infanzia nel senso di questi bambini bisogna occuparsi quindi bisogna formare anche un personale che sia in grado di farsene carico quindi prepara lei costituisce questo corso di formazione per terapeuti infantili dove inserisce l'osservazione quindi concepisce un'attività di osservazione molto particolare con modalità del tutto naturali senza procedure sperimentali a differenza di quello che abbiamo visto prima c'erano o proprio delle ricerche sperimentali vi parlavo prima delle camere di osservazione insomma di un apparato oppure pur essendo fondamentali importantissimi anche i video che vi ho mostrato sono mediati comunque dalla telecamera da un oggetto invece lei semplicemente utilizza lo sguardo di questi studenti e lo sguardo dell'individuo ma allora di cosa si tratta cos'è l'infant observation allora prima di entrare più nel vivo e spiegarvi un po' cos'è molti di voi già lo sapranno così vorrei in modo un po' ironico mostrarvi quest'altro video in 1944 swedish scientist studied the habits of housewives to design a spatially perfect working environment in 1950 they took their experiment on the road entering the homes and kitchens of single Norwegian men scientific rules for survival build trust with your subject collect data on obtrusive allo observe without interference and for the sanctity of the study never become friends Allora era un modo un po' divertente adesso è un film simpaticissimo dove ci sono questi osservatori su questi seggioloni che vanno a vedere come gli scapoli della Norvegia gestiscono la cucina perché questa è una questa ricerca incentivata da una casa produttrice di cucine ma la cosa divertente a parte del film è come descrive il ruolo dell'osservatore dice deve creare la fiducia con chi osserva non deve essere intrusivo e non deve mai diventare amico dell'osservatore adesso questo in un modo ironico ma sono anche dei punti importanti per ciò che è l'osservazione allora semplicemente l'osservatore si reca in una famiglia che ha un bambino neonato ogni settimana per un'ora per i primi due anni di vita del bambino quindi come vedete la cosa è semplice tanto semplice nel fare quanto poi complessa nei significati più profondi cosa osserva l'osservatore osserva la vita quotidiana del bambino quindi l'allattamento il bagnetto il sonno il gioco insomma quello quello che accade osserva certamente lo sviluppo affettivo e quello mentale nella relazione con la madre e con gli altri componenti della famiglia poi una volta che va via dalla casa l'osservatore scrive un resoconto dettagliato di tutto ciò che si ricorda questo poi è un percorso all'inizio si ricorda molto poco poi via via è incredibile quante cose uno riesce a tenere nella propria mente poi questi appunti dettagliati vengono discussi in un gruppo di un seminario con un conduttore esperto di infant observation voi sapete che insomma l'infant observation è alla base insomma della formazione dei nostri terapeuti a IP ma anche del nostro master che è rivolto a professionalità di tutte le professionalità che si occupano di bambini famiglie che hanno la relazione al centro del loro lavoro tenete conto che l'osservazione di due anni vuol dire circa un cento ore di osservazione quindi capite che è anche un training molto importante quindi questa osservazione longitudinale di due anni permette di assistere alla formazione precoce della mente e al divenire della relazione primaria madre-bambino offrendo proprio un'opportunità di apprendimento che è unica è chiaro che uno che fa un'esperienza del genere entra in contatto davvero con gli stati primitivi della mente in modo diretto diretto immediato quindi c'è questo apprendere com'è normalmente un neonato un neonato normale nel suo sviluppo normale e nella sua evoluzione adesso normale forse non è il termine giusto sarebbe meglio dire ordinario perché la normalità fa pensare all'opposizione alla non normalità ma per sottolineare come quello che si va vedendo è quello che accade nell'ordinario allora l'osservatore pone l'accento sul significato di quanto va osservando non solo sullo sviluppo certamente si vedono anche le tappe dello sviluppo ma principalmente l'osservatore è interessato alla mente del bambino quindi osserva le emozioni del bambino l'allargarsi dei suoi orizzonti mentali qualcuno nel video prima diceva come se avesse già in mente che ci sarà la mamma che c'è la mamma quindi è un processo mentale è un'intenzionalità osserva appunto le trasformazioni psichiche è testimone dell'evolversi della relazione del bambino con la madre ed è soprattutto costantemente attento alla dialettica che c'è in ogni momento tra mondo esterno e mondo interno qual è quindi il significato profondo dell'infant observation allora è l'incontro un doppio incontro quello con il neonato che si va ad osservare ma contemporaneamente con il bambino interno dell'osservatore avete visto lo dicevamo prima nel piccolissimo esercizio che non ha a che vedere con quella che è l'infant observation rispetto all'impegno alla profondità all'impatto però quello che andavate vedendo suscitava qualcosa dentro di voi rievocava delle vostre esperienze la situazione un altro elemento fondamentale è la situazione relazionale interpersonale quindi fra l'osservatore e il bambino l'osservatore la mamma la famiglia ma anche intrapsichica cioè c'è una comunicazione fra mondi interni l'infant observation permette di ampliare la propria capienza emotiva cioè il contenimento mentale io di questo immagino invece perché con la dottoressa Agliora ne avrete parlato lo spazio proprio nella mente il contenere il tenere dentro permette anche di trovare la giusta distanza emotiva cosa vuol dire io vado a osservare qualcosa non sono una videocamera sono un essere umano che porta lì appunto tutta la propria storia tutto il proprio livello interno e mi devo avvicinare a ciò che vado osservando alla giusta distanza cioè non devo essere troppo lontano che non metto a fuoco non vedo niente né troppo vicino perché anche troppo vicino non si mette a fuoco e in ogni caso il rischio è di venire tirati dentro la situazione e non riuscire più ad osservare l'infant permette di differenziare aspetti di sé del proprio mondo interno da aspetti che appartengono ai membri della famiglia osservata e consente di fare esperienza del divenire depositario di identificazioni proiettive questo è un concetto complesso che chi vorrà proseguire nella sua formazione sicuramente potrà approfondire ma vi dico tutto questo perché sono tutti elementi che ognuno di noi nel nostro lavoro qualsiasi sia la nostra professionalità dobbiamo gestirlo dobbiamo gestire un bambino che abbiamo nella nostra classe o un nostro cliente nello studio dell'avvocato che mentre racconta la sua storia mette in moto qualcosa dentro di me risuona con aspetti miei no? questo differenziare e questo fa sì che se io non ne ho consapevolezza non me ne rendo conto non gestisco questa cosa posso prendere delle decisioni o delle scelte che a volte non sono le migliori un altro concetto che ripeto anche questo non so se è venuto fuori nelle vostre brevi lezioni la capacità negativa è un concetto che Bion un altro grande psicanalista inglese riprende dal poeta Kitz e questa è la definizione che ne dà il poeta è quella capacità che un uomo possiede se sa perseverare nelle incertezze attraverso i misteri e i dubbi senza lasciarsi andare ad una agitata ricerca di fatti e ragioni quindi cosa significa la capacità negativa è quella che ti permette di tollerare senza agire senza giudicare né rifugiarsi dietro difese razionalizzanti cioè di tollerare i momenti dolorosi e sopportare di sentirsi confusi o incapaci di ricordare o di capire e questo credo che nel lavoro di tutti i giorni ognuno di voi ne abbia fatto esperienza vado molto rapidamente perché abbiamo poco tempo le applicazioni dell'infant observation l'infant ha coinvolto sia la teoria insomma che la tecnica psicanalitica in un percorso nuovo di grande attualità ancora oggi di grande attualità è uno strumento duttile ricco a livello sia maturativo che formativo e ha favorito proprio l'espansione la moltiplicazione di iniziative fondate su questo metodo di formazione come vedete un po' dalle immagini volevano evocare i tanti le tante applicazioni o declinazioni o estensioni del metodo osservativo chiaramente nella scuola dell'infanzia con i bambini come insegnanti a livello anche preventivo con le mamme in attesa con le famiglie anche in campo carcerario si sono fatti delle sperimentazioni attraverso l'infanto anche con gli anziani insomma via e via vari settori ancora un ultimo entro solamente su due più che applicazioni direi derivazioni estensioni dell'infant observation una è l'osservazione istituzionale che è un seminario che è presente nel corso di uno che è proprio dedicato agli insegnanti insegnare a prendere un approccio psicoanalitico deriva direttamente dal metodo di osservazione infantile ed è applicato all'osservazione delle organizzazioni cioè l'oggetto che si va osservando non è il neonato ma è l'organizzazione con la sua strutturazione ma anche con le sue dinamiche istituzionali i suoi processi interni questo sostiene il proprio lavoro il proprio ruolo lavorativo e aiuta a avere uno sguardo e un'attenzione proprio anche a ciò che l'istituzione mette dentro di me ma anche a come io rispondo alle richieste dell'istituzione rapidissimamente un'ultima applicazione estensione è la Young Child Observation anche questo è un seminario che trovate sia nel D1 che nell'M7 che è il master che AIP offre insieme all'università e alla Tavistock Clinic e è l'osservare anziché il neonato dagli 0 ai 2 anni e il bambino dai 3 ai 5 anni questo la metodologia è la stessa ma permette di ampliare la visione del mondo interno ma anche relazionale del bambino ad esempio con i suoi pari allora giusto proprio per finire vi lascio con questo e poi arrivano le nostre vi lascio con un sorriso e poi faccio entrare le colleghe e poi piacciamo di piacciono 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.